Gianfrancesco Gamurrini, 1835-1923, fu figura di primo piano dell'archeologia aretina e nazionale. Ricoprì prestigiosi incarichi e fu instancabile archeologo militante nel territorio aretino. Uno dei suoi primari interessi fu quello epigrafico, come dimostrano il giovanile lavoro del 1859 dal titolo Le iscrizioni sui vasi fittili aretini, e l'appendice al corpus inscriptonium italicarum e dai suoi supplementi di Ariodante Fabretti, uno dei lavori più significativi dello studioso aretino, edito a Firenze nel 1880. Il monumentale lavoro del Fabretti, con i supplementi e l'appendice ultima del Gamurrini, costituirono per lungo tempo il più importante riferimento per le iscrizioni non latine dell'Italia antica, e sono ancora oggi fondamentali soprattutto per tutti quei testi andati perduti. L'archivio di Gamurrini costituisce spesso l'unica fonte per la conoscenza del consistente nucleo di iscrizioni perdute di Arezzo e del suo territorio. È il caso di una stela in arenaria dal profilo irregolare rinvenuta presso Marciano. L'iscrizione, chiaramente funeraria, correva lungo il profilo superiore e il testo recitava, io, sottinteso sono, di Venel Velcusine. Questa è databile al periodo arcaico e si affianca a quella di Larish Halashnas, della Sala 4, anch'essa documentata dal Gamurrini. Venel, al pari di Larish, è prenome fra i più comuni, mentre il gentilizio Velcusine è documentato in epoca ellenistica nella vicina Perugia con la forma ormai contratta delle vocali, Velxna, secondo un fenomeno tipico della lingua etrusca dal V secolo a.C. in poi. Grazie. Grazie.